Non questo, ma questo Ok, con Mi Settima Mi Siede Gintima, il progetto di tonalità E adesso lo fai con l'itono A me, dal punto di vista improvvisativo Non cambia niente, perché sto sempre pensando Quinto suino, ma c'è quello qui E quindi già questo è un manco di po' infortunato E poi potresti cantare Uno, diciamo, in una idea un po' più pesante E una idea un po' più pesante E una idea un po' più pesante Poi, invece, nel da Adesso facciamo aumentato sul la e divinito sul sol Ok, sono tutti colori che mi piace Grazie 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 Grazie